Ehi! Ehi! Non entrare lì! Oh mio Dio. Siamo felici che tu sia qui. Immagino che non sia del tutto vero. Dottore Lee Weathers della sede centrale. Ho bisogno di alcune informazioni su Morgan. Morgan era il nostro terzo tentativo. La nostra piccola scoperta. Un passo avanti nell'evoluzione. Bioingegneria con DNA sintetico. Nell'arco di un mese camminava e parlava. Nell'arco di sei mesi ha superato qualunque nostra aspettativa. Vorrei parlare dell'incidente, se è possibile. Era in preda alla collera. C'era gioia nei nostri cuori, prima di richiuderla là dentro. Ti senti triste, Morgan? Sì. Ti piace qui? Sì. Che cosa ti piace? I miei amici. E loro ti sono amici? Voglio dire, pensi che sia normale che gli amici si rinchiudano nelle gabbie? Che cosa faresti se io chiedessi di rivocarti il permesso di lasciare questa stanza? E se invece proponessi di eliminarti? Finiamola. Rispondimi! Che cosa faresti? Morgan! Dov'è Morgan? Inizio confinamento. Quello che non capisce... Dieci. ...è che Morgan è ancora in evoluzione. No. Le persone in questa casa sono in pericolo. Occhio. Deve essere eliminata. Sette. Sei. Non aver paura. Cinque. Quattro. Tre. No! Due. Uno. Comincio a sentirmi me stessa. Ci sono novità? Tu devi dirmelo. Come andava il tuo matrimonio, Nick? Mi stai chiedendo se ho ucciso mia moglie? L'uomo dei miei sogni. Lo stesso che potrebbe uccidermi. È la mia versione! Ma che potrebbe... E anche un attrae! E anche un attrae! Ci sono le miei sogni! Grazie.